ciao amici benvenuti bentornati qui la sweet school oggi faremo qualcosa di veramente particolare ovvero affronteremo la tematica del cake decorating ciò che voi conoscete come cake design in pasticceria ovvero la decorazione in pasticceria come fare delle torte spettacolari oggi con angelo avremo la possibilità di imparare un soggetto molto ma molto particolare l'unicorno un soggetto mitologico amato tantissimo dei bambini il docente di oggi che avremo qui alla sweet school angelo koffler angelo è un docente residente della sweet school è il docente dei nostri corsi professionali ed è un docente di eccezionale bravura award e medaglia d'oro agli internazionali di birmingham è un docente di una non solo di un'eccezionale bravura ma anche di una grandissima umiltà una grandissima bravura nell'insegnare angelo oggi faremo questo soggetto che hai studiato un soggetto che deriva da un autodisegno quello che dico sempre a tutti i nostri docenti cerca di trasmettere non solo la tecnica ma l'ingradiente segreto che cerchiamo di mettere noi nella sweet school ovvero la passione per ciò che si fa in pasticceria e nel cake design allora buonasera sono angelo angelo koffler nasco come come scenografo ho fatto le belle arti però come come al solito si sbaglia sempre nella vita quindi lo scenografo non l'ho fatto più e nel corso appunto della della vita e cerchi di prendere le cose che hai che hai dentro che sai fare e adattarle a quello che è che è che è il periodo il momento in cui vivi per casualità diciamo ho provato a fare le prime torte ho scoperto poi la pasta di zucchero e quindi la si è aperto il mondo logicamente con la manualità che avevo ho avuto più facilità sono stato più facilitato a a iniziare diciamo però io dico sempre che il cake design non è per tutti però tutti possono provarci non riusciranno c'è la perfezione i soggetti che facciamo ma sono soggetti fatti che sono uscite dalle tue mani quindi poi ognuno ha un suo modo di lavorare abbiamo pensato qualcosa di molto semplice che ho pensato appunto a questo unicorno visto che va molto di moda insomma sulle torte unicorni tutti unicorni e allora ho progettato ho disegnato questo 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 soggetto e poi l'ho realizzato e qui da adesso vi faccio vedere come cerchiamo di farlo insieme diciamo allora l'occorrente penso che tutti voi l'avete già scaricato il c'è la lista si le dispense appunto che vi ha dato la scuola in cui c'era il materiale la pasta di zucchero gli attrezzi da usare e allora cominciamo subito io qui ho un dammi che già ricoperto un dammi di polistirolo che ho ricoperto con la pasta di zucchero da copertura l'ho fatta celeste un po stiliata effetto cielo diciamo per creare un po insomma l'effetto delle nuvole cioè del cielo poi sopra sopra come base diciamo per per reggere il l'unicorno ho pensato di metterci appunto una nuvola allora la nuvola l'ho realizzata in questa maniera con la pasta da zucchero da modeling ho fatto tutte palline e le ho unite però adesso le vado a ricoprire con la pasta di zucchero da copertura in modo che le uniformo tutta tutta la nuvola perché così si vedono tutte le giunture delle palline allora unendo mettendoci appunto la pasta di zucchero da copertura sopra ho sbagliato ho preso quella da modeling scusate mi sembrava un po troppo dura eccola qua questa è più è più morbida più malleabile allora sicuramente molti si chiederanno perché è la domanda che mi chiedevo pure io che mi facevo pure io che tipo di pasta di zucchero perché ce ne stanno parecchie di pasta di zucchero scusate allora la pasta di zucchero ce ne sono tantissime marche in giro bisogna trovare la pasta di zucchero giusta per le proprie mani perché alcune paste di zucchero possono essere eccezionali per me perché ho una mano molto calda però per una persona che ha la mano più fredda cioè non va bene quindi bisogna provarle io personalmente dopo tanto tempo dopo tante prove dopo tante tante pasta di zucchero provate ho trovato quella mia ideale poi tra parentesi abbiamo cioè diciamo parte del merito ciò anche io perché la l'ho testata direttamente uso la pasta di zucchero di 4cake Design che è un negozio online che vende tutta attrezzatura per la pasticceria e il modellaggio in più da circa un anno e mezzo fa produce anche le paste di zucchero è la EMI Revolution per quanto riguarda la copertura e per quanto riguarda invece il modeling la EMI Modding allora come dicevo ho coperto ho coperto la nuvola che avevo preparato con la pasta da copertura tolgo l'eccesso la giro e la mando sotto l'eccesso considerandolo che stiamo inquadrando solo le mani sì sì ok è meglio allora ecco qua e vado a evidenziare un po' le giunture delle palline diciamo quelle esterne però quelle sopra non mi interessa ecco qua questo è l'effetto nuvola la vado a mettere a posizionare sulla sul mio dammi che già ho preparato allora l'unica cosa che io avevo usato un dammi da 20 per per chiarare il coso adesso invece l'ho trovato da 15 però è uguale non fa niente va bene lo stesso ecco qua questa è la nuvola adesso possiamo procedere la metto da parte procediamo con con il soggetto allora sulla lista del sulla dispensa mi siete un altro sulla dispensa c'era scritto il materiale che occorreva c'era scritto 500 grammi di pasta di zucchero bianca da model da modeling allora per quanto riguarda il corpo io ne uso 150 grammi che è questa che poi logicamente con 150 grammi di pasta di zucchero verrebbe così il soggetto poi se lo vogliamo più grande o più piccolo mettiamo meno pasta di zucchero andiamo a ammorbidire un po' allora la pasta di zucchero da modeling sarebbe stato bello vedere come ha attaccato le mucle e rosa poi facciamo vedere come si può fare le mucle e rosa dopo lo facciamo vedere sì la saracina è un'ottima pasta di zucchero qualcuno chiede per la saracina anche noi la compitiamo sia da uno dell'altro che da un buco sono ottime non so se si sente si sente la mia voce si anche ha risposto io sì è un fastidio se parliamo no no assolutamente mi avvicino perché non so se si sente la voce perché il microfono è direzionale allora ricordiamo che questi corsi gratuiti saranno poi disponibili e sulla pagina facebook tra i video oppure se il maestro angelo ce lo consente saranno poi la settimana successiva anche su youtube sul canale youtube di sweet school abbiamo parlato anche delle poste di zucchero ok ecco qua allora abbiamo ammorbidito nel cake design parte tutto da una pallina tutto da una pallina allora vado a fare la pallina logicamente nel momento in cui ammorbidisco la pasta di zucchero quando vado per fare una pallina ci saranno delle giunture no delle grinzie diciamo quelle cerco di toglierle così cerco di toglierle perché queste qua logicamente se le lascio una volta asciutta la pasta di zucchero crepa si spacca allora o le liscio le tolgo cerco di toglierle oppure sapendo già quello che voglio fare le mando sotto in questo caso sotto la pancia dell'unicorno che non si vede ok creo la pallina e gli do già una forma a pera un po' allungata e comincio a creare il collo dell'unicorno se dopo hai con te la secchiello di pasta di zucchero di enero un cioccolato che utilizzi dai padriamo si 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 ok e do già la forma vedi vedete il corpo parte cioè diciamo la pancia sta seduto quindi parte il dorso la schiena e arriva al collo ecco qua però a questo punto devo creare l'ingavo già per attaccare le zambe quindi vado a creare vado a premere così bene ok e ho creato già c'è diciamo l'incavo per mettere per attaccare le zambe davanti anteriori logicamente mentre lavoro la pasta si deforma un attimo cerco di di risciarla di rimetterla a posto ecco qua e questo è il corpo nella parte posteriore premo schiaccio un attimo e creo il punto in cui vado ad attaccare le zambe posteriori ok allora questo è il corpo procediamo con le zambe le zambe uso 60 grammi di pasta allora a me occorre una pasta di zucchero almeno per le mie mani che e per anche per il modo mio di lavorare insomma una pasta di zucchero che tenga molto la forma che gli do quindi che asciughi abbastanza rapidamente e questa secondo me è perfetta per le mie per le mie mani allora vado a ammorbidire ammorbidiamo sempre Ok, la stessa cosa mando sempre l'aggiuntura della pasta di zucchero tutta da un lato e vado a stendere, creare un salamino diciamo. Taglio il primo pezzo e circa 5-6 cm, ne faccio due uguali e sto le zambe anteriori queste. Sicuramente sono troppo alte, mentre le modello le taglio sopra. Logicamente così rimane dritta, dobbiamo tagliare un po' di forma. E andiamo a incavare la parte base. Questo sarebbe qua, poi andiamo ad attaccare lo zoccolo e poi lasciamo più largo sopra e stringiamo ancora un altro pochino. Ok. Andiamo a misurare e taglio un pochino, un po' troppo grande. La stessa cosa faccio con l'altra zamba. le facciamo contemporaneamente così almeno sicuramente vengono uguali. le facciamo incavo anche qua. La stessa misura, tagliamo. Prendo la pasta di zucchero marrone e prepariamo lo zoccolo, gli zoccoli. l'elengo del materiale non ho scritto il colorante oro. Come vedete io ho fatto lo zoccolo, il fiocchetto e l'unicorno, l'ho fatto oro. Però allora è un colorante in polvere che va diluito con l'alcol e dopo l'ho pitturato. uso il marrone perché è un colore che nel momento in cui se io andassi ad applicare l'oro sul bianco non lo colora benissimo. Invece il marrone è il colore più perfetto per essere colorato dall'oro. Allora, creo lo stesso tubicino cercando di farlo della stessa grandezza della zamba. Cristina chiede se si può colorare la pasta di zucchero. Eventualmente con quali coloranti, se consigli di farlo, se non consigli. Allora, la pasta di zucchero parte con una base bianca e quindi può essere colorata tranquillamente. Logicamente se bisogna fare un colore molto scuro tipo il marrone, il blu, il nero, il rosso è molto difficile raggiungere la tonalità di colore che uno desidera. Se vogliamo fare dei colori pastello va benissimo, però se vogliamo fare per esempio un nero verrà sempre grigio, dovremmo mettere tantissimo tantissimo colorante in gel oppure in polvere. Però io preferisco il gel sinceramente che la polvere. Le polveri le uso solamente per le sfumature. Quindi è consigliabile, tanto si trovano di tutti i colori già pronte, quindi conviene sempre usare quelle già colorate insomma. Al limite poi, se il colore, la tonalità non è di gradimento, lavoriamo più chiaro oppure più scura, aggiungiamo del colorante oppure aggiungiamo del bianco per schierire. Allora, vuoi ripetere gentilmente il nome del sito dove comprerai? Allora, il sito si chiama For Cake Design. For Cake Design, ragazzi, non For Cake Design. For Cake Design, no, esattamente per torterlo. Per torterlo. For Cake Design. Allora, vedete, ho unito lo zoccolo alla zamba. Ho usato della semplice acqua. Preferisco l'acqua perché nel momento in cui se uso la gelatina, la gelatina se esce fuori, diciamo, dalla giuntura, nel momento in cui si asciuga rimane lucida. Invece l'acqua è asciuta e quindi attacca lo stesso, quindi preferisco usare l'acqua perché tanto attacca lo stesso. Ecco qua. E abbiamo realizzato lo zoccolo. Andiamo a misurare. Come vedete è troppo alta ancora, quindi tagliamo un po' e gli do già pure un po', lo taglio un po' di traverso, diciamo, in modo che vado a incastrarla perfettamente con l'incavo che avevo fatto già prima. Allora, mettiamo un po' di acqua. Ecco qua. Stessa cosa faccio quest'altra parte. Mettiamo sempre l'acqua. Allora, per togliere l'aggiuntura della zampe, andiamo con le mani, piano piano, misciamo, 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 oppure usiamo questi attrezzi qua, che servono per misciare appunto la pasta di zucchero. Allora,angs come vuoi. Allora,onga. Adesso procediamo con le zampe posteriori. La stessa cosa, 5-6 cm. La stessa cosa che ho fatto con le zampe anteriori, vado a schiacciare un po', creare un po' di movimento alla zamba, altrimenti è troppo rozza, la inchino un po' e la parte dietro la schiacciare. Contemporaneamente si allarga la parte posteriore. Mi creo già l'anca. Come si chiama l'apprezzo per rendere lisce le giunture? Sono dei nomi inglesi sinceramente. Possono essere silicone? Sì, sì, sì. Per tutte le parti? Sì, per tutte le parti. Sono in genere, sono in silicone. Io ho trovato questi che mi ci trovo benissimo perché sono di ferro e quindi posso gestire meglio la pressione della mano. anche questi c'è un kit completo, sono 5-6 pezzi, sempre sul sito del... Diciamo che è soggettivo. Sì, sì, sì. Anzi, il soggetto non si vede perché non è in quadratura. Aspettate che il soggetto... Ok. Questa è la zamba. La stessa cosa, facciamo questa zamba. La vado un po' a piegare e vado a schiacciare, però in questo caso nel senso opposto perché è l'altra zamba. Allora, in un soggetto realistico, in un cavallo realistico, non è così la piegatura della zamba, perché dovrebbe esserci, diciamo, la parte del ginocchio che si piega. Però in questo caso, siccome essendo un fumettistico, gli creiamo appena appena un po' di forma, diciamo. La stessa cosa faccio di qua. Quando usiamo l'attrezzo, l'attrezzo è importante, però dopo andiamo sempre con le mani perché altrimenti lascia troppo il segno. Quindi ci rientriamo con le mani e lisciamo. La stessa cosa qua. Facciamo lo zocco, lo creiamo. Andiamo ad addolcire il taglio che abbiamo già dato. In questo caso addolciamo tutte e due le parti del taglio, perché questo poggiava, invece questo non poggia, quindi bisogna addolcirla. Altrimenti il taglio rimane troppo netto. Si vede il taglio. La stessa cosa. Mettiamo dell'acqua e l'applichiamo. La stessa cosa da un po' di forma, lo indigniamo un po' per dargli un po' di movimento alla gamba. E mettiamo sempre dell'acqua per attaccarlo al corpo. E lo andiamo ad attaccare. La stessa cosa lo facciamo con l'altra zambetta. Andiamo ad attaccare. E cerchiamo sempre di far aderire il più possibile la pasta di zucchero in modo che togliamo le giunture. Nel limite del possibile, perché dopo considerate che questo è un soggetto, è fumetto, quindi non è che... Allergiamo un po' le zambette. Ok. A questo punto possiamo dare il taglio del collo. Quindi diamo un taglio, non perfettamente dritto, ma appena poco inclinato verso avanti. In modo che quando andiamo a montare la testa, pende un po' in avanti, diciamo. possiamo applicarlo già sopra al dammi, in modo che si fissa. La stessa cosa, mettiamo sempre dell'acqua. Tutti i punti che andranno a contatto con l'altra pasta di zucchero. Ok. E ce l'andiamo a fissarlo. Mettiamo poco poco più avanti, in modo che diamo la possibilità dietro di bugiare pure la coda. non è un po' iniziale. Grazie. Ok. Possiamo? Procediamo con la testa. Per la testa, io ho calcolato 90 grammi di pasta di zucchero. Andiamo a ammorbidire. La cosa che vi consiglio è di togliere sempre le cose che non si usano più. Lo sto dicendo a voi, perché lo sto dicendo a me stesso. Io a laboratorio ho un tavolo grandissimo e mi ritrovo a lavorare su 20 cm quadrati. Sono creativo. Ok. Abbiamo ammorbidita la pasta di zucchero. Sempre la solita cosa, mandiamo tutte le giunture della pasta in un punto. e andiamo a fare la solita pallina. Il problema è quando appunto lavoriamo la pasta di zucchero bianca, se il piano di lavoro non è pulito, prende tutte le impurità che sono sopra il piano di lavoro. Le prende tutte, penetti, c'è tutto. Quindi cerchiamo di tenere sempre pulito il piano di lavoro. Allora, questa è la pallina. Vedete, qua c'è l'aggiuntura della pasta di zucchero. Questa è la manto sotto, quindi considero il collo. Ok? La manto sotto così non si vede. Allora, e mi creo una sorta di pera. Vogliamo ripetere gentilmente quanti grammi per fare le gambe? Eh, 60. La gamba? No, 60 per fare tutte e quattro le zambe, sì. Tutte e quattro? Tutte e quattro. Oh, Rosa d'amore è attentissima. Una altra amica? Rosa d'amore. Non lo so. È attentissima. Allora, questa c'è la forma della testa. Adesso la andiamo ancora a modellare. Schiacciamo un po' il musino davanti. E nello stesso tempo creiamo una sorta del naso, va? E con le mani, piano piano, do già la forma dello zippo, diciamo, del cavallo A. Mi schiaccio sempre. Mi schiaccio sempre. Mi schiaccio sempre. Come spiace il normale? Come spiace il normale? Si. Sì. Si. A quale è il proprio fatto? Ok. Ci stiamo. Allora, se nel caso trovate la pasta appiccicosa, basta usare la maizena, l'amido di mais, lo spargete un po' sulle mani. Non ne usate troppa perché altrimenti secca troppo la pasta di zucchero. Allora, una volta data la forma all'incirca della testa, vado a creare proprio l'effetto già degli occhi. Creo lo spazio dove nasceranno gli occhi. Ecco fatto, quindi questo è lo spazio dove nasceranno gli occhi. La faccio dall'altra parte. Il musino misce un po' il musino, schiaccia un pochino. In questa cosa mi diventa un po' di pasta, non mi preoccupo perché dopo alla fine la vado a togliere quella in eccesso. Ok, prendo l'attrezzino con la punta e, come vedete, si vede qua, allora, l'occhio parte dall'altezza del nasino delle narici, segue la forma del collo e poi si crea una sorta di semicerchio, quindi sotto è tagliato dritto e invece sopra rimane arcato. Quindi, allora, da questo punto qua, faccio un segno. Cerco di fare la stessa cosa dall'altra parte, cercando di farlo uguale. perché il problema più grande è quello appunto di fare le cose uguali. In questo caso, per chi ha le prime armi, io consiglio di fare la forma dell'occhio su un pezzo di carta, lo vado ad applicare sulla testa e quindi prendo il segno. Poi, una volta fatto un occhio, lo giro dall'altra parte e faccio la stessa cosa anche dall'altro occhio. Poi, prendo il bisturi e vado a fare un taglio nel segno che ho fatto nell'occhio. abbastanza in profondità e tolgo una parte della pasta di zucchero, in modo da creare un buco. la stessa cosa faccio dall'altra parte. ok, e vado con l'attrezzino per lisciare. a lisciare il buco che ho fatto, diciamo. e mi creo una sorta di arcata che segue la forma dell'occhio. ok. allora, con la pasta di zucchero che abbiamo tolta, adesso ce la dobbiamo rimettere perché dobbiamo creare la pupilla e l'occhio, diciamo. qua non è troppo grande, bisogna fare delle prove. Proviamo. cerco di creare una sorta di pera, diciamo. però ho tanto di spessore, sempre. che poi vado a inserire nel buco che ho fatto. è un po' troppo grande, lo dobbiamo un pochino. mettiamo l'altra pallina che diamo subito, cerchiamo di farla uguale. all'incirca ci siamo, ok. allora, forma di pera. ecco qua. e vado a inserirla dentro. ok. mi aiuto con il taglierino, con il bisturi. cerco di schiacciarla un po' dentro, però senza sformarli, diciamo. dobbiamo fare in modo che la rotondità dell'occhio resta sempre. questi sempre. ok. Simona che dici? Ne faccio solo uno di occhio? le faccio tutte e due. hai paura? no, no. ho paura che non... che non... il tempo? no. ok. stessa cosa faccio di qua. allora. nella parte inferiore dell'occhio cerco di farla più dritta possibile. invece nella parte superiore non mi interessa perché dopo andrò a mettere un filo di pasta di zucchero. quindi coprirò tutte tutte le imperfezioni se ci sono. capito? e rievidenzio. ok. hai detto di far di vedere tutti i due per far vedere l'amore per quanto ci metti poco bene per fare. intanto tolgo la pasta di zucchero di censo, questa è troppa, quindi la tolgo. la testa l'è fatta. diamo dei piccoli segni che sarebbe sulla giuntura dell'arcata del nasino, diciamo. e sul muso vado a fare il taglio della bocca. quindi parto da un lato, giro piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, ma io vado dall'altro lato. ok, creo un piccolo taglio in verticale. la cosa chiede se puoi avvicinare e applicare un prezzo per vedere l'occhio, quindi ci possono vedere ancora il taglio. finiamo magari, facciamo il maestro che mi scala. Angelo, una domanda, perché è necessario, non basterebbe dipingere l'occhio, faccio delle domande banali. togliere la cosa? sì, perché è necessario operare. allora, perché sicuramente se vuoi fare solamente questo oggettino, cioè attenzione di fare solamente questo soggetto e fermarti, puoi anche farlo, anche se dopo devi dare sempre il segno dell'occhio, la forma dell'occhio, quindi bisogna lavorare molto con gli attrezzi. però io penso che uno che inizia a fare un piccolo soggettino con la pasta di zucchero, decide di farlo, ci avrà intenzione sicuramente di fare altre cose. quando poi andiamo a fare la bambolina, in quel caso bisogna avere forza a tagliarlo l'occhio, quindi già ci abituiamo a creare... quindi anche le manualità. sì. e anche proporzioni. infatti, sì. è più realissimo. sì, sì, infatti è più... è realistico. poi se non è più difficile, non ci diamo. ok, adesso facciamo le narici. prendiamo il ball tool piccolino. questo si chiama ball tool. questo lo so come si chiama l'attrezzo. questi altri non hanno dei nomi inglesi. sono tool genese. sì, sono tool genese. allora, faccio il segno della narice e con quello che ho fatto prima il taglietto, diciamo, della bocca, vado un po' allungarlo. riprendo il ball tool e ripremo e cerco un po' di alzare la pasta di zucchero, in modo da creare proprio il pugo. quando metto dentro la tiro sopra la pasta di zucchero, poco poco, in modo che mi si crea già la forma pure della narice. ok, adesso andiamo a diriggere l'occhio. allora, per la pittura io uso in genere il gel, coloranti in gel, però si possono usare anche coloranti in polvere. per quanto riguarda, per diluire, diciamo, il gel, perché il gel è molto cremoso, prendo un pennellino piccolissimo che è lo 00, questo, prendo un po' di gel, di coloranti e lo metto sulla tavolozza. e allora, potrei diluirlo un po' con l'acqua, però l'acqua ci mette troppo tempo ad asciugare. potrei diluirlo anche con l'alcol, ma l'alcol non permette, cioè evapora subito, quindi non permette, se voglio sfumare un attimo il colore, è più difficile. quindi la cosa migliore è usare una via di mezzo, io uso la grappa al 40%, quindi ti permette evapora, asciuga molto più velocemente dell'acqua e ti permette nello stesso tempo di, cioè ti dà il tempo di diluire, cioè di sfumarlo se vogliamo. se è a lanza, uno si può fare a concedere. si, al bevuto, tanto, pur se è colorata, si può colorare alimentari, quindi succede di meno. finisco un po', e metto il soggetto. cerco, cerco di evitare di toccarlo perché ho le mani sporche oppure troppo appiccicose, posso, posso, te ne appiccicola troppo la faccia, quindi cerco di, cerco di toccarlo il meno possibile. allora, l'occhio, vado a creare, a disegnare l'occhio, questa è una parte un po' difficile, un po' più difficile, però con un po' di pratica. allora, l'occhio dell'unicorno, la parte superiore, tocca completamente con l'arcata. scendo, poco più della metà, diciamo, dell'iride. poi vado solamente con il pennello e vado solamente con la graffa, diciamo, e vado a allungare il colore, in modo che me lo sfuma. lo coloro completamente, perché tanto poi c'è la pupilla, nera. ok, passo all'altro occhio la stessa cosa, cerco di farlo con la stessa grandezza. ok, passo all'altro occhio la stessa grandezza. ok, ci siamo. lascio sciogliare un pochino. intanto preparo il colorante nero. nel frattempo ti faccio una domanda. se puoi ripetere gentilmente, con che cosa diluire il colorante nero? allora, io sto usando la grappa, perché è una via di mezzo fra l'acqua e l'alcol. l'alcol evapora troppo velocemente e l'acqua non asciuga mai. quindi la grappa asciuga abbastanza velocemente, ma ti dà il tempo di poter sfumare il colore. la grappa è un'acquavite, quindi contiene un 40% di alcol. ok, a questo punto preparo la pupilla, devo disegnare, devo seguire la stessa forma dell'iride che ho fatto. lascio un 2 mm, forse 3 mm e seguo la stessa forma dell'iride. ok, come vedete già è abbastanza asciutto, no? non si mischia il colore, quindi non si mischia il colore, quindi non si mischia il colore. ok, lascio il pennello. scusate per l'implicità. mi passiamo di carta? mi passiamo di carta, mi passiamo di carta, perché così ti faccio l'assistente. grazie. sei velocissimo. come stiamo nel tempo? a questo punto dovremmo creare i colpi di luce, no? sopra l'occhio, questi qua, che danno poi, è quello che creano la tridimensionalità dell'occhio, perché così è piatto come occhio. possiamo, se abbiamo tempo, aspettiamo che si asciuga, cioè che asciughi nero e poi possiamo procedere con il colorante bianco e ci facciamo dei segnetti. se invece ancora non è asciutto, possiamo farlo direttamente con la pasta di zucchero. io in questo caso l'ho fatto con la pasta di zucchero. in caso vi faccio vedere entrambe le cose. preparo intanto un lato, lo facciamo con la... prendo un pezzetto di pasta di zucchero bianca. questo lo possiamo chiudere. prima che faccio un macello, perché mi conosco come sono. ok. prendo un pezzettino di pasta di zucchero. ancora più piccola. quando si prendiamo le mani sport, mi parti. scusate, ho dovuto un attimo lavare le mani. vuoi il gel? lo porto? no, no. eccomi qua. eccomi qua. allora, riprendo un pezzettino di pasta di zucchero, che dicevo. e crea una piccola pallina. poi vado a schiacciare un pulino. così. poi mi aiuto con il taglierino. con i bisturi. così. e la vado ad applicare sulla parte superiore dell'occhio. fra la pupilla e l'iride. la prima. ok. mi aiuto con il colturi piccolino. in modo che gli attacchi. ok. adesso ne facciamo un'altra. più piccolina. vediamo un pochetto. un po' sporcata. schiaccio un po' pochetto. schiaccio un po' è grande lo stesso. facciamo un po' poco più piccolina. ok. prendo un po' più piccolino. e la vado a mettere sotto. ok. di qua invece. vi faccio vedere a farla. ehm. come farla con il. con il colorante bianco. con il colorante bianco. con il pennello pulito. si. lo lascia quasi gocciolante diciamo. qua il pennello. però in questo caso. vedete. non è ancora asciutto bene. quindi sta diventando grigio. però. se. cioè nel caso fosse stato. più asciutto il colore. potevamo. tranquillamente. comunque così. avete visto entrambi i metodi. diciamo. ok. adesso procediamo con. con le ciglia. allora. prendo. il. pennellino. piccolino. e. intingo con il nero. e. e. creo. già. la forma. delle ciglia. dipinte. queste le faccio. va. la. stessa. lo faccio di qua, appoggio il pennello all'interno dell'occhio e tiro verso fuori. Adesso vado a mettere l'arcata proprio con la pasta di zucchero nera. Prendo un pezzetto di pasta di zucchero nera, la vado a stendere lasciando una punta molto fina e man mano poco poco più doppio. La parte più fina andrà all'interno dell'occhio e la faccio terminare con la pasta di zucchero poco poco più doppia alla fine dell'occhio. Prendo sempre quel pennellino piccolo sciacquandolo, faccio attenzione a non macchiare il colorante, metto un po' di acqua per permettere alla cosa di attaccarsi alla pasta di zucchero. Ok, quindi prendo la pasta di zucchero. Ok, quindi prendo la pasta di zucchero. Ok, quindi prendo la pasta di zucchero. La faccio attaccare e la giro piano piano tutto intorno all'occhio. ti aiuto con il tagliare di nuovi pistoli. La faccio aderire, schiaccio leggermente in modo che la aderisca. e vado a tagliare seguendo sempre la linea dell'occhio. e vado a tagliare di zucchero. Ok. La stessa cosa faccio ad un altro occhio. All'inizio sarà un po' più difficilotto questo lavoro, però poi basta prendere un po' la mano. Tutti i costi con la mangiola in parere. Un po' più. Ok. La stessa cosa, prendo un po' di acqua e la passo intorno all'occhio. Vedo che ne va la pasta di zucchero. In questo caso ancora non è asciutta bene la roba bianca dell'occhio. Logicamente questo se lo fate con calma, aspettate che si asciuga. Adesso per sbrigarci oggi noi, logicamente qualche imprevisto. abbiamo creato gli occhi. Ok. Adesso passiamo alla parte del trucco. Trucco e parruzzo. Domanda flash. Come si lavano i pennelli? Con l'acqua semplice? Con l'acqua semplice. Con l'acqua semplice. Con l'acqua semplice. Non usate il sapone perché, in specie con questi piccolissimi, perché questi sono prodotti elementari quindi si lavano tranquillamente con l'acqua. Allora, per il trucco esistono delle polvere colorate. Io in questo caso ho il rosa, diciamo. Il rosa effetto perlato è quello che mi piace tantissimo, diciamo. Che uso più spesso. Però ci sono anche dei colori più temi, più accesi, insomma. e prendo il classico pennello proprio da trucco. Questo è un pennello da trucco. Ah, pennello da trucco famiglia. Pennello che puoi comprare da Sephora. Sì, permette che ne smettono il... come si chiama questo? Infarto. Non fa pinta che non lo sai. No, no, no. C'è l'ombretta sopra gli occhi. Allora, intingo il pennello e scarico un po' perché altrimenti... le troppo forti e vado a colorare le guance. Intingo e scarico. E poi dopo un po' di... al musino. Vado un attimo a ritoccare la bocca. Se trovo l'attensino eccolo. Evidenzi un po'. Evidenzi un taglio in verticale che dà il senso di sorriso. e poi... Io poi questo... ho messo pure un po' di... ombretto... sopra l'occhio. E... Io uso... ci sono pure le trusse queste qua. Sono trusse però sempre di prodotti alimentari, eh? coloranti alimentari. Com'è? Com'è? Questo... non lo so se ce l'hanno. Ce l'ho sicuro. Questo io l'ho preso da parecchio tempo. Sopra un sito... su internet l'ho trovato. non so se ce l'ha a Biasinthia questo qua. Forchè che lo sai. E' importante che ci sono colore alimentari. Si, si, colore alimentari. Però ci sono pure i barattolini, insomma. Non è che... eh... Allora, lascio un attimo il pennello. Lascio un attimo il pennello. E... vado con il piola. Vado a fare i combinetti, eh? Grazie. Ecco, sempre un usato trucco questo qua. Vedi questo è... proprio come se fossero acquerelli, diciamo. a... e vado a dare... un colpo di... io la l'arte si vedeva... io la scarpe gli occhi. Ok. Hm? A posto. Adesso andiamo... togliamo... gli attrezzi, i colori. Andiamo ad attaccare la testa. Ecco, vedi? Il bello di questa pasta di zucchero, che... adesso è parecchio tempo che l'ho usata, no? Già sta in posa. però se vado a ritoccarla ancora... posso ancora moderlarla. taglio un attimo la polpa della testa. Ok. Allora, per quanto riguarda adesso... devo inserirla... devo attaccare la testa. prendo gli stecchini... gli stuzzicatenti... lo inserisco... cioè nel... nel collo, diciamo, che ho fatto... e... vado ad attaccare la testa... un po' di acqua. mettiamo un po' di acqua. Ok. con il zucchero marrone... è comunque lì... un po' di acqua. La testa è la loro... è tutto in continuazione. Ok. A questo punto... con il marrone... questo è il zucchero marrone... creo il fiocco... qui ci vedo sempre... un po' di acqua. e con il materello vado a schiacciarlo. Quindi vado a tagliare una striscia di nemmeno un centimetro, poco più di mezzo centimetro. Che utilizzo per fare il collarino e copro anche la giuntura del collo. Metto un po' di acqua. Posso fare una domanda? Sì. Gli alati e gli stecchini vanno bagnati per far aderire meglio la pasta di zucchero? No, 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 non occorre. L'importante è che poi vado a bagnare la pasta di zucchero quando vado ad attaccarla. Cioè nel senso, metto lo stecchino, so che la testa va poggiata sopra il collo, bagno il collo in modo che poi poggio la testa. L'aggiuntura in questo caso la mando dietro. Potevo mandarla anche sotto al collo perché tanto ci va il fiocco, poi comunque non fa niente. Poi con questo pezzetto che mi ha avanzato ci faccio il fiocchetto. Lo stringo un po' da un lato, lo taglio in diagonale, l'altro lo stringo un pochino e vado ad attaccarlo. e poi mi creo proprio il fiocco. e provo, forse è un po' troppo grande. Lo facciamo proprio come piccolo. Prendo la stessa misura, lo facciamo uguale. Proviamo ad unire. Facciamo un po' di acqua. Lo facciamo abilire così, schiacciandolo un pochetto in modo che... Così. E questo lo vado sempre... aggiungo qua sotto. Un lato all'altro lato. Come vedete con l'acqua reincidere di la mente. Poi, alla fine, vado a colorare sia gli zoccoli che il fiocchetto, il fiocchetto, il fiocchetto e il fiocchetto. con il colorante color d'oro. Altrimenti posso lasciarlo pure così. Quindi, se decidete di lasciarlo senza colorare, senza passarci l'oro, il fiocchetto lo potete fare con un altro colore. Scusate un attimo, pulisco un po'. Ok. Adesso procediamo con le orecchie. Il fiocchetto è un po' di pasta nel zucchero. Allora, la divido a metà, ce la facciamo più con questa. Creo due dallini e vado a creare due pere, diciamo così. Le schiaccio un pochino. Poi, con questo attrezzino qua, vado a incidere. In migraia, ha già la forma dell'orecchio. Stingo un pochetto. Taglio un pochino dritto dove va l'attaccatura nella testa. La stessa volta ne faccio un'altra. Faccio la stessa cosa. Faccio un pochino a punta e le orecchie. Ok, vado ad attaccarle. Metto l'acqua. Le orecchie vanno sopra l'occhio, diciamo. Mi aiuto con l'attrezzino. Sì, no? Ok. A questo punto possiamo procedere con la chioma. Allora, io ho già preparato... Avevo detto di colori pastello, no? Perché in genere lo vediamo così in unicorno, i colori pastello. Io invece ho preferito fare colori un po' più accesi che... Ispirandoci dal copaleno, no? Sì, brava. Angelo, dunque... Maria Grazia... No, Sara Gianni. Non si usa ovviamente lo zucchero a velo, ma... La maizze... L'amido di mais. Tu non la stai usando perché comunque la consistenza... Perché la pasta di zucchero è buona. Da modellato è buona, quindi non ti si attacca alle mani. Ognuno deve trovare la pasta di zucchero più adatta alla sua temperatura corporea. Anche all'umidità, insomma... In base anche alla latitudine ci sono ovviamente... Non diciamo delle cose banali. Città in cui c'è più umidità... Città in cui c'è più asciutta... Bisogna sempre trovare la propria pasta di zucchero ideale. Allora, ecco qua. Prendo... In realtà ci stava la pasta di zucchero bianca, erano i miei bianchi... Vabbè, comunque... E mi creo tutti... Come possiamo chiamarli? Ciocche. Ciocche, bravo. Non mi veniva al termine. Allora... O le lascio così singole... Come ho fatto io... Lasciate singole. Posso anche unirle... Due colori insieme... In modo che vengono più unite le ciocche. Però io preferisco... È più bello... Allora... Vado a bagnare con l'acqua... Tutta la parte davanti alle ciocche... E comincio la... C'è la prima ciocca... C'è la disposizione del colore indifferente... Come la mettiamo... Non c'è problema... L'importante è che la pasta di zucchero... Appunto, guardi... Guarda... Mantenga bene la posizione che gli tocco... Questa... C'è una pasta di zucchero... Che la tiene molto bene... La cosa... Per tanto... Di essiccatura... Sempre una... Considerarlo... Per i principianti... Tipo... Di far rendersi... Se magari poi... Le preparo subito un'altra... Perché ci sono messe due... Per evitare che poi... Non tenga... Sì... Infatti... Ci stanno le pasta di zucchero... Per esempio... Che ci vuole troppo tempo... Quindi le lascia... Le devi lasciare un po' asciugare... Quanto sono lunghe le ciocche? Ma... Sui 10 cm... 12 cm... Sì... Infatti... Si rimangono un po' più lunghe... Da un pannello... Dopo magari... Se inquadriamo... Adesso... Il personaggio... Così... Facciamo vedere... Com'è nella realtà... E come... Verrà poi realizzato... Come arriverà... Ok... Ci aiutiamo un attimo... Ci aiutiamo un attimo... Grazie... Benissimo... Ok... Poi procedo con un altro colore... Io... Ne ho fatte due... Ciocche per ogni colore... Per quanto riguarda... La... La griniere... Diciamo... Possiamo farne pure... Se la vogliamo più grande... Va bene... Ok... Poi... 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 ... Poi... perché tutte davanti logicamente non possono partire, perché purtroppo non ce la facciamo con i colori. Quindi facciamo partire da dietro, da sotto, in modo che mi dà pure spessore per le altre ciocche che vado a mettere dopo. Mi scordo sempre che c'è la telecamera. Grazie. Grazie. Io ho preparato i colori verde, viola, verde-lilla, rosa, giallo e celeste, arancio, cinque colori. Ora andiamo a mettere un po' dietro un'altra. Ora andiamo a mettere un po' dietro un po' dietro. Facciamo un po' dietro questo. Andiamo con la celeste. Quanti anni avete scegliato in questo campo il maestro Padro? Sono otto, sì all'incirca otto penso. Forse Rosa voleva dire, se devo creare un soggetto dal nulla da dove si deve iniziare? A volte viene stampato il soggetto da creare, però magari uno può anche disegnare. Sì, è logico, prendi sempre spunto da internet, trovi sempre tantissime cose, poi te le modifichi. Tutto è stato fatto, insomma, parliamoci chiaramente, però logicamente il problema, adattare poi il soggetto, il disegno che fai, perché un conto è disegnare e un conto è crearlo proprio... Sì, però per imparare i segreti e tutto bisogna comunque... Sì, è logico, perché altrimenti non si viene a capo. Sì, sì, è logico. Bisogna tirare fuori delle proporzioni... Bisogna fare corsi... C'è normale. Cioè io pure all'inizio ho cominciato, già avete dei tutorial delle cose, ma poi alla fine ho dovuto fare sempre corsi. Il maestro continua ancora a fare corsi. È brava. Oh, Dio. Ok, facciamo il bucciano e abbiamo finito. ggig especially, grazie mille. Grazie. Ok, adesso poi ci regoliamo noi davanti come stanno messi i ciuffi. Ah, poi avevo messo anche l'attrezzo per fare i capelli, che è questo qua, ve lo faccio vedere, io in questo caso non l'avevo usato. Questo qua, con questo è rigato in poche parole, una volta fatto il ciuffo vado a imprimere e do la sensazione che siano i capelli attaccati, però questo è la descrizione. Consideriamo che comunque i kit di attrezzini si trovano insieme, si va a comprare appositamente, si trova nel kit eventualmente. Ok, adesso facciamo la coda, è la stessa cosa, per la coda ho utilizzato solamente un ciuffo di ogni colore, però poco poco più grande l'ho fatto più spesso. La stessa cosa, facciamo la stessa cosa. Dobbiamo mettere dietro, mettiamo acqua. Grazie. 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 Procediamo sempre con tutti i colori. Per fare il corno, prendiamo il marrone. Ammorbidiamo. creo due striscette come si conserva la pasta di zucchero e se magari ha una scadenza? Sì, la scadenza la trovi sulla confezione della pasta di zucchero, però la pasta di zucchero va conservata una volta usata se ti rimangono i pezzi così, mai lasciata così perché secca, sempre nella plastica, cioè nella pellicola e dentro il secchiello proprio della pasta di zucchero. Quindi teme l'umidità, se supera una temperatura di 25 gradi potrebbe perdere la consistenza. Successo è successo a me, non riuscivo a capire per quale motivo questa pasta di zucchero mi ha dato questo problema, poi invece mi sono risultato che l'avevo lasciata a una temperatura più alta di 25 gradi. Invece se siamo al contrario in un luogo freddo non c'è problema, però non in frigo. No, 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 in frigo no, assolutamente perché fa condensa. Quindi mai buttare tutti i singoli pezzetti, magari se sono stati anche colorati, perché magari uno vuole un colore particolare che non si vende, quindi lo fa manualmente? No, 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 no. Non buttare, impenicolare singolarmente e mettere in un secchiello chiuso, magari lo stesso secchiello della pasta di zucchero, ben chiuso in un luogo fresco. Allora, per fare la cosa, dicevo, basta che prendiamo le due strisce che ho fatto e le andiamo ad unire insieme. Questo regge così senza stecchino? No, no, poi ci mettiamo un ferrettino a mezzo. Ok, andiamo a tagliare. Le uniamo bene. Ah, un 6-7 cm? Sì, 5-6 cm. Poi prendiamo i ferrettini apposta per i fiori. Questi qua. Andiamo a tagliare un pezzetto. Allora, vado prima a inserirlo, faccio al centro della fronte. Faccio il buco. Poi inserisco dentro al corno. Il corno, l'abbiamo detto, saranno... 5-6 cm. Sì. E lo vado a rimettere a inserirlo. Una volta fatto il buco, mi aiuto con le tronchesi. Mettiamo un po' di cola, un po' di acqua. Facciamo prima il buco perché altrimenti quando andiamo a inserirlo, possiamo... Il ferretto può uscire dall'altra parte e quindi ti crea un buco sul corno, capito? Quindi... Ok. Poi prendiamo un pezzettino di... Decidiamolo il colore. Facciamo i tre ciuffetti che c'è lateralmente intorno al corno. Allora, facciamo le carte. Allora, a tutti... No vedete. ... Grazie. 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 Logicamente ci mancano ancora strisce e poi quando lo girate aggiungete altri ciuffi. Ok. Poi per quanto riguarda la colorazione, vi faccio vedere come si colora con l'oro. Prendiamo sempre la nostra tavolozza. Mettiamo un po' di colorante oro sulla tavolozza e diluiamo sempre con la grappa. Scegliamo il colorante in questa maniera e andiamo a colorare. Facendo attenzione quando andiamo a sporcare gli altri. Grazie. 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 Questo non ci interessa a noi se si vedono le pieghe o meno perché tanto vanno coperte la cosa. tagliamo tutti i pezzetti, più grandi e più piccoli prendiamo il pezzo, creiamo la pallina se qua sono andato a cena, perché sono arrivati già nella seconda ora chiedo se ci saranno altri corsi, ovviamente tutorial il prossimo corso, questo è un omaggio che vi abbiamo fatto anche per farvi conoscere Angelo ne faremo altri perché ormai nella nostra filosofia comunque omaggiare, far sì che l'arte pasticcera venga anche divulgata in maniera anche gratuita naturalmente con Angelo abbiamo istituito una serie di corsi, di corsi di decorazione, di cake design di altri tutorial, di altri corsi con altri soggetti anche molto belli quindi il prossimo sarà il 2 luglio, il corso è già in vendita ad un prezzo lancio molto molto basso a 19,90, chi vuole può andare già direttamente sul nostro sito www.sweetest.it nella home scorrendo in basso si può vedere il prossimo corso che è un corso molto particolare Angelo lo facciamo con gli animali della giungla, Jungle Cake, sarà un soggetto molto molto particolare saranno tre animali molto simpatici, vi consiglio di acquistarlo perché oltre a quello Angelo vi spiegherà dei segreti un pochino più approfonditi di quelli che avete potuto vedere si si la classe è ancora chiuso naturalmente affrettatevi perché poi oltre un tot non ne prendiamo anche per una questione di didattica ecco qua, penso che l'abbia visto come hanno chiesto la dimensione del cuore ma è indifferente tanto il cuore hanno tutte le grandezze e dopo vanno coperte come ho fatto con la tassa di zucco ok? bisogna fare testa tutti i finali, inquadrare anche eh? è stato sempre spettacolare, ti senti più stilevato si si sicuramente ma è stupenda sto microfono e la telecamera e poi è a disagio bisogna dire che non si sa con chi si interagisce perché di fronte c'è soltanto una fotocamera io poi sono ciociaro e quindi mesco dei termini ciociari dovete venire a trovarci mesco dei termini ciociari quindi scusate se non avevo avuto l'italiano è venuto un soggetto bellissimo sempre su questo tema di torte per bambini o comunque temi abbastanza universali perché piacciono anche agli adulti queste torte continuiamo con Django, l'abbiamo pensato animaletti della giungla adesso il maestro ha disegnato i soggetti sono già sia sulla pagina Facebook che online sul nostro sito il tempo di realizzare la torta l'ambientazione e poi pubblichiamo anche la torta però il sito del corso se lo volete acquistare è già acquistabile il prezzo lancio bassissimo è 19,90 pensiamo che sia un prezzo giusto e il corso completo sarà poi insomma anche un po' più articolato nel senso che prendetevi due tre ore di tempo per farlo bene in diretta questa era una demo quindi siamo andati anche abbastanza veloci però ovviamente a chi poi quel giorno preciso cioè giovedì 2 luglio non può seguire la diretta può comunque seguire la registrazione che manderemo quindi è una cosa importantissima anche questo è vero che è una diretta però c'è la possibilità anche di rivedere il corso quindi e c'è l'attestato finale abbiamo finito la promo vogliamo dire qualcosa altro vogliamo inquadrare grazie a tutti scusate non correre ti devi beccare tutti i saluti gli applausi virtuali virtuali no no ci sono le persone di là che ti ringraziano e ti saluto tutte le tue torsiste poi ti vai a leggere i commenti questo video rimane anche se è una diretta rimane comunque sulla pagina facebook potete trovare i suoi video e se Lorenzo vorrà lo mettiamo anche sul canale youtube momentaneamente ecco la registrazione di tutti i nostri tutorial di tutti i nostri video le video dirette che abbiamo fatto sia in pasticceria che in cittisanne sono sempre nella nostra pagina rimangono qualche giorno per caricare la pagina e no no rimane in diretta già da adesso quindi appena finita la diretta è già nello storico quindi potete rivederlo poi se lo mettiamo anche su youtube è meglio perché uno così può mettere pausa può vedere con calma in grandie e girare l'inquadratura eccetera eccetera se non avete la lista del materiale corrente la trovate su suites.it cliccando sulla notizia è scaricabile il sito dove trovare questa pasta di zucchero che devo dire veramente eccezionale soprattutto perché ha le mani calde perché lui ha una temperatura quindi ha una temperatura corporea molto molto calda e quindi non teme il calore questo è importantissimo ha avuto sempre un problema che mi sguagliano ok quindi torniamo il sito è 4cakeDesign dove trovate anche altri naturalmente tutti gli attrezzi di cake design speriscono in tutta Italia anche all'estero giusto? sì perfetto un saluto a tutti va bene vi serviamo ci vediamo la prossima vi ringrazio vi ringrazio